Michele Chiaratto, responsabile della divisione di Edilteco dedicata ai prodotti per la protezione al fuoco e oggi fondamentalmente faremo una veloce desamina dei prodotti che abbiamo a gamma e delle potenzialità degli stessi in funzione delle loro caratteristiche. Presento velocemente Edilteco che è dall'81 che si occupa della produzione di materiali edili fondamentalmente sviluppando tecnologie legate all'addettivazione e all'espansione di inerti superleggeri nello specifico perle di polistirene per realizzare intorno ai sottofondi termoisolanti e nello specifico alcuni prodotti per la protezione al fuoco. Edilteco Group è così organizzata in divisioni la divisione termal si occupa di isolamento termico la divisione di Bred di isolamento alle vibrazioni e l'isolamento acustico la gamma pro term che è quella in oggetto alla presentazione di oggi la protezione al fuoco degli elementi strutturali e l'IMP che è una nostra divisione che si occupa della produzione di attrezzature per applicare i nostri materiali stessi e gli impianti che servono alla loro produzione. Le principali società di Edilteco Group a parte la capofila che è a Modena, San Felice e Sul Panaro vengono dirette dalla stessa le società francesi, belga, iberica e sudamericana poi abbiamo addirittura un'altra società che si occupa di un settore totalmente diverso che è di produzione di sostanze che servono alla lavorazione delle ceramiche. Edilteco produce e opera direttamente in molti paesi e in molti altri su licenza, offre know-how e assistenza tecnica e commerciale. La gamma che presenterò oggi è solo ed esclusivamente costituita da intonaci quindi intonaci con diverse caratteristiche e diverse proprietà. Guardiamo per prima i prodotti destinati alla protezione al fuoco passiva da curva cellulosica da isotto 3-4 e vedremo le loro caratteristiche e le certificazioni delle quali sono in possesso. Il primo prodotto Pronter Light è un prodotto allegante, cementizio e inerte, super leggero a base a perle di polistirena addittivati chimicamente. È un prodotto che sul mercato da quasi 30 anni ha avuto una serie di test da circolare a 91 e adesso è arrivato ad avere i nuovi test da norme europee quindi 13, 38, 1, parte 3, 4 e 5 su calcestruzzo, acciaio e solette composite, lamiera grecata e calcestruzzo. È un prodotto che può essere sia in colorazione bianca che in colorazione grigia ha il vantaggio di avere un legante come il cemento ed essere esente da fibre. Il comportamento in sintesi che è in molti lampante, nasce la domanda ma come si comporta il polistireno con il calore quello che in realtà si concretizza all'interno di materiali di questo tipo non è altro che il polistireno sublima e si crea una macroporosità del prodotto che gli consente di realizzare un fortissimo taglio termico anche ad elevate temperature. È un intonaco che ha la facilità di essere applicabile meccanicamente con la maggior parte degli intonacatrici in continua che sono presenti sul mercato e grazie al fatto che è allegante il cimento può essere applicato anche in ambienti esposti. Questa natura di prodotto è stata utilizzata per oltre 30 anni nella realizzazione di termointonaci applicati in esterno quindi la cultura che c'è su questa tipologia di tecnologia materiale e gli agenti atmosferici sono ben noti. Si possono applicare su acciaio spessori sino a 6 cm sul calcestruzzo si arriva fino a 5 cm. Lo spessore minimo è applicabile perché un prodotto di questo tipo abbia consistenza e riesca a creare uno strato continuo uniforme a 1 cm. è un minimo sindacale perché stia adeso alle superfici. Gli vantaggi di un intonaco di questo tipo quindi sono si applica facilmente e l'applicatore non deve essere in particolar modo istruito. È particolarmente adatto ad ambienti umidi o tutti quegli ambienti in cui in certi periodi dell'anno possono comunque concentrarsi forse forti quantità d'acqua quindi umidità vedi autorimesse eccetera ha un'elevata resistenza meccanica ha una struttura che gli consente di resistere meccanicamente a grosse sollecitazioni non direttamente confrontabili a intonaci che hanno eleganti come gesso o inerti come perlite e vermicolite e poi ha un grosso vantaggio che asciuga velocemente perché richiede poca acqua d'impasto perché l'inerte non è in grado di assorbire acqua finché la perla non è esposta al calore resta comunque inassorbente perché una perla vergine è tutta pellicolata e quindi velocità di essiccazione di maturazione del prodotto e soprattutto può essere applicato anche su superfici che hanno un lento rilascio d'acqua vedi predal recentemente realizzate questo è tutto a favore dell'aggancio del prodotto queste sono alcune foto di applicazioni realizzate con il prodotto Proterlimist sia su calcestruzzo che su acciaio come vedete si applica come un normalissimo intonaco il secondo prodotto che è in gamma è l'MK6 HY della Grace è una versione particolare del monocoat che da quest'anno è distribuita in Italia anche da Edilteco brevissima presentazione di chi è Grace Grace è un gruppo che si occupa fondamente di chimica nasce nel 54 ha tantissimi brevetti nel mondo della chimica è leader mondiale nella produzione di cementi alleggeriti con varie densità sempre per la protezione al fuoco con varia destinazione d'uso e dal 50 che Grace ha cominciato a produrre intonaci per la protezione al fuoco ad oggi è ancora leader con una grossa fetta di mercato l'MK6 HY è un prodotto particolare particolare perché? perché è un intonaco base gesso e alleggerito con vari inerti però ha la particolarità di essere additivato in fase di pose cioè vale a dire in fase di applicazione nell'ultima parte di tragitto che compie il materiale ancora fresco prima di arrivare alla pistola di applicazione viene inserito un accelerante poi vedremo cosa serve le caratteristiche che saltano subito all'occhio che è il fatto che sia estremamente leggero parliamo di un intonaco da 255 kg al metro cubo anche questo esente da fibre e ci mettono a disposizione in Grace una serie di certificati da Eurotest parte 13381 parte 345 e inoltre un certificato a membrana a sistema protettivo a membrana orizzontale che si realizza spruzzando l'intonaco su una rete pendinata al solaio quindi vado a pendinare una rete grazie a dei montanti con certe caratteristiche geometriche da rispettare e poi spruzzo l'intonaco questo intonaco diventa un manto continuo a fortissimo taglio termico che secondo quanto dice la 3C381 riesce a garantire resistenze strutturali e taglio termico e tenuto ai fumi diversi al variare delle strutture sulle quali io vado ad applicare il sistema a membrana orizzontale come previsto dalla normativa europea citata torno indietro un attimo tutte queste caratterizzazioni del prodotto insieme ad altre caratteristiche di durabilità dello stesso sono raccolte all'interno di un'ETA quindi una europea tecnica la prova che va a testimoniare quella che è la durabilità del prodotto in opera se vengono rispettati i crismi che vengono riportati all'interno degli assessment viene applicata anche questa con un macchinario un po' diverso ma comunque molto molto diffuso che è un'intonacatrice a miscelatore planetario il materiale bisogna di essere miscelato con l'acqua di prendere una certa dose d'acqua di aria di inglobare nella miscelazione una certa dose di aria viene aperta la bocca del miscelatore cade nella tramoggia e viene pompata dal sistema polmone come dicevo prima a 5 metri dalla fine del percorso che può essere veramente infinito perché il prodotto è molto fluido e molto molto leggero già in fase di miscelazione quindi posso tenere la macchina anche al piano e pomparlo a 40 piani sopra oppure posso tenerlo in orizzontale posso tenerlo anche qualche migliaio di metri di distanza il punto di miscelazione di caricamento del macchinario è il punto di applicazione questo consente una gestione del cantiere molto molto rapida e quindi va a incidere sui costi trasportato il materiale dove lo devo applicare gli ultimi 5 metri di tubazione il prodotto è fresco si sta muovendo gli viene iniettata un acceleratore grazie a un sistema di iniezione quindi una pompa ad alta pressione che inietta nel tubo di mandata questa sostanza negli ultimi 5 metri di tubo prima di arrivare alla pistola si miscelano e comincia ad avvenire una reazione chimica tra l'acceleratore e quello che è il prodotto ancora fresco l'acceleratore che è una polvere viene miscelata in acqua e poi è infilata all'interno del salbatoio di questa pompa cosa consente? consente al prodotto di espandere immediatamente dopo qualche secondo che è stato posato queste sono le tazze di riferimento che servono a fare le verifiche di densità in opera come potete ben vedere è quello che succede in realtà dopo qualche secondo passo dalla tazza sinistra in cui io ho diciamo cimato il prodotto fresco che ho appena spruzzato con la pistola e dopo 5-6 secondi ha già aumentato incrementato il suo volume di una notevole densità questa cosa consente consente di ottenere un un peso specifico nella densità in opera molto molto inferiore rispetto a un 350-400 kg a cui siamo abituati questo cosa significa che riesco comunque ad avere un prodotto efficiente in consumi seconda cosa dimenticavo consolida l'intonaco l'acceleratore in una decina di minuti quindi posso fare la prima applicazione e dopo 10 minuti il prodotto non ha ceduto l'acqua ma ha comunque raggiunto un grado di consolidamento tale da poter riapplicare la seconda mano quindi questo cosa significa velocità di applicazione di esecuzione del lavoro veramente impressionante c'è da fare una verifica però perché comunque io riesco a espandere il prodotto in funzione del quantitativo di sostanza che io vado a iniettare insieme all'intonaco quindi devo verificare il dosaggio dell'acceleratore perché questo non vada ad essere troppo quindi vada a sovralleggerire il materiale quindi portandolo fuori dai range di densità per i quali il materiale è certificato rendiamoci conto che la verifica di densità corrisponde a una verifica di idoneità del prodotto alla rispondenza dei certificati quindi cosa succede vuol dire che io in opera mentre spruzzo il prodotto ogni volta che vado a toccare quello che è il macchinario di iniezione per fare una regolazione devo fare una verifica molto molto veloce con delle tazze di riscontro quindi c'è una tazza pretarata con un volume ben prestabilito la vado a pesare se entra dentro un range il prodotto è ok e viene applicato è una manovra molto semplice però è una manovra che deve essere fatta da chi applica il prodotto perché questa verifica di densità è poi una verifica che va a costituire l'ideonità del prodotto una volta applicato c'è un kit per fare questo tipo di verifica ed è fornito dalla Grace in maniera sistematica a chi applica i prodotti poi ora della fine non c'è molto sono tazze pretarate e una bilancia cosa ottengo rispetto a un normale in tonaco base GES intanto che è molto molto leggero ma nello stesso tempo ha tutta una serie di test su base normativa americana che ne vanno a garantire valori molto elevati di adesione di coesione di erosione all'aria di abrasione di compressione e di resistenza agli urti o vibrazioni quindi tutte queste caratterizzazioni che poi vanno a incidere su quella che è la durabilità del prodotto sono chiuse all'interno dell'ETA quindi durabilità 25 anni i vantaggi del prodotto in cosa si riassumono una minore incidenza del prodotto utilizzato a parità di spessore grazie all'accelerator io posso realizzare uno spessore con minor materiale e quindi rendere economico e veloce su grande scala l'applicazione l'applicazione mi ripeto è molto rapida consente di rivestire superficie elevate in breve tempo perché non devo aspettare che asciughi la prima mano qui vado già con la seconda applicazione dopo 10 minuti che ho posato la prima che è qualcosa di mostruoso per un intonaco ho una facilità di gestione del cantiere per una serie infinita di motivazioni io posso piazzare la macchina dove voglio posso trasportare mantenendo il prodotto inalterato per molti e molti metri e do comunque un elevato controllo del prodotto posato perché io faccio continuamente test su quello che è la densità del prodotto applicato e lo spessore del prodotto applicato man mano che lo poso grace produce il monocote dai primi N50 logicamente è stato perfezionato però è sicuramente il prodotto più diffuso a livello mondiale proprio perché è veloce sicuro queste sono alcune fotografie di applicazioni scorro velocemente logicamente l'acciaio è quello che salta all'occhio spesso i problemi di durabilità di un intonaco sono legati alle fasi costruttive dell'edificio poi l'intonaco sicuramente durante la vita utile tutto l'edificio non viene a contatto con agenti esterni però in una condizione di cantieri di questo tipo ho grossissime problematiche legate alla durabilità dell'intonaco in quei due mesi in cui il cantiere resta aperto perché comunque può essere esposto alcuni casistiche diciamo di incendi realmente anche tutti perché chi è sul mercato da oltre 50 anni sicuramente ha avuto anche riscontri con casistiche concrete e questa diciamo forse è la più eclatante che Grace riporta un po' dappertutto è che un prodotto applicato nel 72 ed era il monocoat è stato applicato dal nonno in piano in su del First Interstate Bank Building Los Angeles se non ricordo male nell'88 quindi dopo 16 anni è scoppiato un incendio con una propagazione anche abbastanza virulenta dal dodicesimo piano che ha coinvolto quattro piani e si dice che il prodotto abbia durato sia durato la protezione oltre due ore rispetto a quello che doveva durare insomma delle prestazioni veramente è bastato rimuovere il prodotto e riapplicarlo per ripristinare totalmente le strutture portanti ecco quindi questo è una delle casistiche dopo 16 anni del prodotto era ancora in perfette condizioni quindi lasciando stare tutti i test che l'ETAG dura 25 anni questo penso siano comunque i riscontri più indicativi andiamo a vedere un po' di certificati io adesso qui salteremo da un prodotto all'altro ma le modalità di testing di questi prodotti come magari già sapete sono molto molto similari però andiamo a vedere quali possono essere i dati peculiari per utilizzarli 13381 parte terza vengono testati elementi caricati non caricati in calcestruzzo vengono preparati gli elementi con le termocopie annegate come dice la normativa dalla superficie di interfaccia tra l'elemento in calcestruzzo e il sistema protettivo e poi tutto via via passo standard delle termocopie entranti per avere una mappatura termica del flusso di calore all'interno dell'elemento esposto quindi vengono applicati almeno lo spessore minimo e lo spessore massimo c'è chi a volte realizza anche dei test sullo spessore medio del prodotto da questi test cosa si va a trarre come conclusione fondamentale il cuore di un test su calcestruzzo per un intonaco protettivo e il rapporto di equivalenza il rapporto di equivalenza non va altro che dire che tot millimetri di intonaco protettivo applicato equivalgono a tot millimetri di calcestruzzo logicamente pochi millimetri di intonaco protettivo equivalgono a molti millimetri di intonaco quindi con pochi millimetri di intonaco io riesco a dare una protezione al calcestruzzo dal fuoco che come si sa bene è tutta legata al copriferro delle strutture molto ma molto efficace quindi parliamo di rapporti come ben vedete un esempio test al fuoco seguito al CSI su ProterLight guardando a 120 minuti 10 millimetri di intonaco protettivo applicato equivalgono a 36 millimetri di calcestruzzo 32 millimetri di intonaco applicato perché è il massimo applicato sulle solette equivalgono oltre 100 millimetri di calcestruzzo quindi sono tutti rapporti di equivalenza che sono abbondantemente sopra il 3 uno step successivo che può essere a volte più pratico più veloce da utilizzare sono quegli abachi che il laboratorio realizza confrontando i risultati contenuti appunto sui campioni testati con quelli che sono le mappature dell'Eurocodice e quindi va a realizzare un abaco facilissimo da consultare che per ogni classe di resistenza al fuoco in funzione del copriferro presente sulla struttura in funzione della temperatura critica dell'acciaio di armatura che è in questo caso il tecnico che deve individuare qual è la temperatura critica dell'acciaio in terzo i due valori ottengo il millimetri di intonaco protettivo da applicare quindi è molto facile da consultare logico che questi abachi hanno delle limitazioni che sono legate alla geometria degli elementi testati che però in genere l'eurotest ti obbliga a testare degli elementi abbastanza sottili e snelli quindi spesso e volentieri quotidianamente si riscontrano elementi che hanno dimensioni geometriche maggiori in alternativa in alternativa si procede tranquillamente con lo spessore equivalente che è il cardine per eseguire un dimensionamento da eurocodice e si va senza sfruttare questi abachi a fare un dimensionamento più puntuale e preciso la parte 4 sull'acciaio vengono selezionate da normativa alcuni set di colonne con massività prestabilite con dimensioni prestabilite alcune caricate altre non caricate individuate il set che si vuole misurare e quindi anche gli spessori caratteristici che voglio misurare possono essere più o meno approfonditi passo ai test al fuoco anche qui sull'elemento sulla superficie di scambio tra l'acciaio e l'intonaco vengono misurate le temperature anche perché si considera che la temperatura all'interno dell'acciaio sia presso che costante si elaborano i dati e gli assessment vengono pubblicati in funzione di un parametro che si chiama massività che molto probabilmente vi sarà già nota però ripetiamo si tratta tra un rapporto tra la superficie esposta al flusso termico dell'incendio e il volume dell'elemento stesso che poi per elementi lineari non si traduce altro che del rapporto tra il perimetro della sezione trasversale esposta al fuoco è l'area della stessa quindi poi in sostanza immettere la meno uno detto ciò andiamo a vedere un abaco che è quel che si utilizza quotidianamente per decidere lo spessore del protettivo questo è il grafico del monocot questi abaco hanno pagine su pagine ognuna per ogni classe di resistenza al fuoco facciamo l'esempio per una classe di resistenza 120 ipotizziamo di avere un profilo con massività 120 metri meno uno e ipotizziamo questo è il dato che il progettista deve valutare in funzione della classe del profilo in funzione del fattore di utilizzazione del profilo deve decidere quale sia la temperatura critica detto ciò il compito del produttore terminato e sull'abaco viene riportato lo spessore di protettivo da applicare 37 mm come abbiamo visto nell'esempio la domanda che spesso ci fanno ma il prodotto c'è scritto che l'abaco può essere applicato solo per sezioni aperte HI eccetera sì verissimo l'abaco può essere applicato solo per HOI però c'è la possibilità di incrementare quello spessore e applicare tranquillamente l'intonaco ai tubolari cosa che diversifica il testing dall'intonaco dal testing delle vernici cosa che non posso fare per le vernici il passaggio al tubolare lo posso fare per l'intonaco non siamo obbligati come produttori di intonaci a testare le sezioni tubolari quindi con delle formule di incremento dello spessore che leggo sull'abaco in funzione della massività del profilo vado a incrementare come potete vedere nella peggiore dell'ipotesi al massimo incremento di un quarto lo spessore che l'abaco con quella massività specifica massività mi direbbe di applicare attenzione però che non posso comunque con un incremento andare a sforare rispetto a quello che è lo spessore massimo testato la 13381 parte 5 l'ultimo test perché andiamo a vedere è invece realizzato su Soleil la miera grecata diciamo che forse è uno dei test che somiglia di più ai vecchi test che si eseguivano prima dell'evento delle N e si testano due solai uno caricato e uno non caricato un spessore massimo e un spessore minimo all'interno tutta una serie di termocopie che servono a fare una mappatura termica del flusso di calore all'interno dell'elemento vi ricordo che in questo caso si parla di profilo sottile quindi le temperature critiche siamo a 350 gradi che è la quale la mia collaborata è il massimo alla quale può resistere la mia collaborante grecata fondamentalmente questa tipologia di test cosa ci va a restituire va a restituire lo spessore di calcestruzzo equivalente anche in questo caso e soprattutto i tempi per raggiungere i 350 gradi sulla interfaccia in tona con la mia grecata che è il talone d'Achille di una struttura di quel tipo il laboratorio inoltre grazie alle termocoppie piazzate all'estradossa della trave riesce comunque a verificare anche i parametri legati alle I di quella soletta quindi ed è per quello che dico che assomiglia un po' di più ai vecchi test riesco ad avere un diagrammino molto semplice in cui in funzione della classe di resistenza al fuoco richiesta già il laboratorio mi dice i millimetri da applicare per ottenere il RAI richiesto si possono testare sia lamiere grecate con profilo rientrante che normali quelle a coda di rondine per esempio come quella che si vede in questo test devono avere uno specifico test non possono essere utilizzati i dati ricavati dalla lamiere grecata tradizionale ma devono essere testate altri profili con lamiere grecate a coda di rondine il monocoto M6HY ha anche questa tipologia di testing quindi ha eseguito un test sia sulla mia reggata normale che su rientrante e ha ottenuto dei dati ottimi l'ultimo lo cito soltanto perché uno lo potrà sui cataloghi è un prodotto destinato all'applicazione metodo tabellare decreto 16 febbraio 2007 quindi un 600 mille chili base gesso aperlite eccetera quindi un prodotto per utilizzare solo discursivamente nelle soluzioni contemplate dal metodo tabellare legato Dino modalità di controllo molto spesso spaventa il professionista la verifica dello spessore di un intono che in realtà è una cosa molto banale anche perché stiamo parlando di millimetri non di micron quindi sono cose che si verificano con elevata precisione anche con strumenti abbastanza rudimentali con un calibro e perché no anche con un metro basta solo fare dei piccoli saggi e si va a misurare quello che è lo spessore applicato c'è inoltre una normativa che ci viene incontro la 10.898 parte terza che va a darci una mano soprattutto per definire il numero di campioni da fare dove farli e come farli in funzione di quanti spessori e quanti elementi ho protetta e questa normativa inoltre oltre che riportare la verifica degli spessori dell'intonaco protettivo detta anche le verifiche da fare sugli elementi da proteggere quindi quali siano le verifiche da eseguire sugli elementi costruttivi la verifica dei supporti per valutarne l'idoneità dell'applicazione dell'intonaco serve o non serve un primer la superficie alla quale sto applicando l'intonaco è contemplata o non è contemplata nell'assessment o può essere considerata paritetica quella dell'assessment queste sono le domande che ci dobbiamo porre verifica inoltre dei prodotti prima della posa in opera può sembrare banale ma non è sempre detto che la prescrizione del tecnico 818 poi venga rispettata in cantiere andando ad applicare quello che è il prodotto che c'era sul progetto le condizioni e le modalità di applicazione sono prodotti che hanno dei campi di utilizzo in fase di applicazione che sono da rispettare uno su tutti la temperatura uno su tutti il dosaggio d'acqua quindi devo andare a verificare che ci siano state rispettate le condizioni di posa in opera e le modalità di posa in opera e dopodiché una volta applicato il prodotto è venuta maturazione e devo andare a verificarne gli spessori ecco un classico esempio di quello che devo andare a fare prima di applicare un intonaco quindi verificare i copriferri in un calcestruzzo verificare se il rivestimento dell'acciaio è idoneo a ricevere il prodotto il produttore si presta a dare tutte le indicazioni che servono per il primer per identificare il primer idoneo può essere la superficie da trattare o per verificare se un primer già applicato un primer anticorrosivo d'officina per esempio per le fasi di lavorazione del ferro stesso per eviti di ossidazione può essere compatibile o non compatibile con un prodotto queste sono tutte cose che un tecnico comunque deve valutare anche al fine di prescrivere un corretto ciclo di protezione le verifiche sui prodotti prima della posa in opera e sulle modalità di applicazione appunto come abbiamo anticipato la corrispondenza al progetto le certificazioni del prodotto il numero dell'otto di produzione l'eventuale date di scadenza perché questi comunque non sono prodotti che hanno durato infinita ma hanno comunque i leganti che hanno una scadenza e le condizioni ambientali atmosferiche come vi ho già detto modalità eccetera le verifiche si possono fare su spessore applicato densità del prodotto e grado di adesione allora per alcuni prodotti parlo di intonaci per mescelati in sacco una volta che ho aggiunto è difficile sbagliare la densità perché il prodotto poi viene da sé è preconfezionato devo verificare la densità su prodotti che hanno agenti espandenti in fase di posa vedi monocota mkf6hy una cosa che posso verificare è che in alcuni casi è contemplata anche nel modo di verifica della qualità della posa nell'ETA faccio un esempio monocota mkf6hy ha un sistema di testing della capacità di adesione del prodotto è molto semplice da realizzare c'è un tampone in legno che viene incollato sul prodotto e sul quale poi viene agganciato un contenitore in grado di contenere del liquido viene aggiunto liquido finché non si raggiunge un certo peso ed ecco che se il contenitore c'è l'intonaco ha retto al quantitativo di liquido previsto quindi il quantitativo di peso e quindi la forza di trazione prevista e il prodotto ha un'adesione idonea chiudo presentando l'ultima collaborazione che è nata da Edilteco per andare a completamento di gamma dei prodotti prodotti intonaco diciamo per la protezione al fuoco ed è stata fatta con AVI produttore di intonaci arabo che si occupa di estrazione di vermicolite contrariamente dal nome dell'azienda il prodotto non ha vermicolite all'interno ed è un prodotto a 650 kg al metro cubo faccio notare che AVI è da anni che realizza prodotti di questo tipo quindi da oltre 20 anni ed è licenziatario esclusivo per la Grace per Europa e Medio Oriente ha una serie di riconoscimenti soprattutto per il settore petrolchimico fondamentali per applicare il prodotto per avere le giuste garanzie di riconoscimento del lavoro effettuato con varie compagnie petrolifere le più grossi e le più riconosciute sul mercato petrolchimico ha una massa volumica da 640 kg è un prodotto più pesante sono prodotti di media densità fondamentalmente questi utilizzati nel petrolchimico è esente da vermicolite e anche questo è a base di cemento Portland quindi è un prodotto che può essere applicato tranquillamente all'esterno ha una grandissima resistenza a quelli che sono gli agenti atmosferici e anche agli agenti chimici dove viene utilizzato viene utilizzato in elementi strutturali di impianti che servono alla lavorazione del greggio o sui derivati quindi elementi strutturali travi colonne le classiche gambe dei serbatoi o le golnelline dei serbatoi come vengono chiamate per partizioni elementi calcestruzzo eccetera questo prodotto ha tutta una serie di certificazioni che consentono sì esatto dopo andremo a vedere anche tutti i test del firejet eccetera è idoneo ad essere applicato anche nella protezione di tunnel poi vedremo le certificazioni idoneo ad essere applicato anche per quel tipo di applicazione è un prodotto che ha valori elevatissimi di adesione ha una resistenza meccanica molto elevata logicamente una bassa conducibilità termica ed è dotato intrinsecamente di un fortissimo inibitore alla corrosione tanto che in alcuni casi non sarebbe quasi neanche necessario effettuare trattamento anticorrosivo spesso comunque è necessario farlo anche perché l'aggressione chimica in ambienti come nel petrochimico è molto molto pronunciata ha una resa elevata quindi ha poco consumo per ottenere un buon spessore e possa applicarne uno spessore molto elevato per mano quindi queste sono tutte caratteristiche che poi vanno a incidere su quello che è il costo di realizzazione del prodotto resistenza da idrocarburi fondamentali è le UL1709 Ione della Laboratis che sono quelle fondamentali diciamo per far sì che il prodotto venga accettato nell'applicazione per il petrochimico a resistenza al fuoco idrocarburi per una normativa che è fondamentalmente una normativa nazionale olandese che però in questo tipo di settore o di applicazione cominciano a diventare degli standard più che internazionali perché poi non essendoci dei test specifici la stessa cosa è la resistenza al fuoco il jet fire che fondamentalmente è una normativa nata e promossa dalla shell e è dotato addirittura di resistenza alle esplosioni si chiama blast test che è un'altra tipologia di test che viene richiesta in alcuni impianti e quindi la resistenza di adesione meccanica dopo l'urto all'onda d'urto di un'esplosione molto intensa in questo caso è stata fatta con 227 kg di dinamite e poi tutta una serie di caratterizzazioni del prodotto sempre nelle laboratorio che ne va a giustificare l'applicazione in ambiente esterno e quindi resistere tutte quelle azioni da era giuva l'elevata umidità quindi sbalzi di umidità molto molto elevati nebbia salina con tutti i salini molto molto elevati cicli gelo-disgelo che sono una delle cose fondamentali e l'atmosfera aggressiva di tipo industriale quindi con presenza di quelle che sono le sostanze chimiche che possono arrivare da piogge acide all'interno di stabilimenti di quel tipo io con questo ho concluso è stata una carrellata molto frettolosa ma l'altrondi prodotti sono molti e ci tenevo a dare una presentazione se non altro che parziale di quella che è la gamma in tonaci di Teco io vi ringrazio se c'è qualche domanda che è la gamma che è la gamma che è la gamma Grazie a tutti.